A 20 anni sogni in città, sogni di andare via, io ero uno di quelli, cosa c'è dietro queste montagne, io voglio vedere cosa c'è dall'altra parte. Poi le cose si mettono in una fila in un certo modo che ti ritrovi, che hai visto veramente mezzo mondo e la tua terra non so per quale magia ti richiama. Io vivo in due dimensioni, c'è la vita del tour che mi porta a viaggiare, essere sempre nelle grandi metropoli, ma poi c'è la vita, la vita quella normale e volevo collocare questo album là nel mezzo. Sometimes it's like a flash in the dark. For me art is the ability to transform the invisible into the visible and trying to explain the creative process is always so complicated because I believe that in art the metaphysics comes before the physics. What really interests me is the ability of an artist to transcend, getting to the next level, going beyond. Talent shouldn't be seen as a free pass. Real talent comes with a responsibility. Talent should be seen as a free pass. Real talent is 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 a free pass. Real talent